La gara che avevamo vinto due anni fa prevedeva un contratto 2 più 2, si chiamano così, ma qualunque gara delle amministrazioni pubbliche, prevedeva 4 più 4, quindi l'amministrazione aveva la possibilità dopo due anni di dire bene non ci interessa più, vogliamo fare altro oppure ci interessa ancora ma non lo vogliamo fare con voi, in questo caso l'amministrazione ha confermato l'interesse a avere questo festival e quindi a investire in questo festival e ha anche confermato la gestione da parte nostra per i prossimi due anni.